Via Foscolo, Via Montale e Via San Matteo sono solo alcune strade giorresi trasformate in discariche a cielo aperto. L'elenco però purtroppo sarebbe molto più lungo. Nella strada del carcere giorrese una delle alternative al traffico della statale in diversi punti sono stati abbandonati rifiuti ed ingombranti, scarti edili ma anche vecchi mobili in disuso, così sul ciglio della strada come se nulla fosse. In Via Montale, zona residenziale di tre punti, gli abitanti protestano perché lungo quella strada enormi cumuli di rifiuti di ogni genere giacciono ormai da tempo in memore, nelle immediate vicinanze di terreni incolti, rifugio perfetto per i topi che infestano la zona. E poi la Via San Matteo, della quale fin troppe volte si è parlato. Una discarica più volte bonificata, l'ultima volta pochi mesi fa ed oggi nuovamente trasformata in un immondezzaio. La lotta per arginare il fenomeno delle discariche a cielo aperto sembra davvero ardua se chiunque si sente in diritto di utilizzare il suolo pubblico per smaltire i propri rifiuti. A questo punto solo un attento controllo del territorio e sanzioni salatissime potranno forse costituire un deterrente alla diffusa in civiltà.